La donna Considerarmi una proprietà Quando senti il tuo primo no Motivato perché sei femmina Essere giudicata per il mio aspetto Camminare in mezzo alla strada perché il marzo piede è troppo buio e poco sicuro Dire a una donna incinta auguri e figli maschi Sentir dire era vestita in modo provocante Ma è normale che non abbia resistito Pensare che il claxon quando camminiamo per strada ci faccia piacere perché è un complimento Quando il tuo compagno ti picchia e ti dice che non è colpa sua Sei tu che Prendere una persona visibile facendola scomparire Quando mia madre mi dice non uscire dal sole alla sera perché sei femmina Lasciarmi perché sono rimasta incinta Non lo radimeno Grazie a tutti.